Grazie intanto per i complimenti sul libro, lo sto usando ancora di partenza, però per rafforzare, corroborare un po' le relazioni che ho con altri professionisti. Lo utilizzo per quando devo presentarmi a persone, sia persone interessate alla mia attività, magari morbidi, o anche persone che non sono collegate, però che possono in qualche maniera essere coinvolte da alcune tematiche che affrontano il libro, io comunque questo libro glielo lascio. Il libro l'ho fatto non per megalomania o per valianci, l'ho fatto proprio inizio prima, per scelta di consegnare un valore al mercato e tutte le mie idee, per tutto il vista e quello che ho salvato, ma soprattutto anche per utilizzarlo come direttore a visita. Io dietro visita, ad esempio non ce l'ho, sono in piedi e nuca il direttore a vista che non l'ho mai avuto.